Siamo collegati adesso concreti con Daniele Rossi perché dalla regia abbiamo pronto l'internista che siamo andati proprio ieri noi dello struscia striscia strascia a casa di Daniele e abbiamo fatto l'intervista per dire due parole di questo nuovo clip. Ce lo dici tu Daniele Kanji? No, chi è? No, 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 assolutamente, il videoclip è quello di Natale che abbiamo presentato. Siamo collegati a casa di Daniele Rossi per presentare il nuovo videoclip. Vediamolo poi, Kim è con noi. Collegamento. Salve telespettatori di Teledea, siamo qui davanti a voi per raccontarvi quello che abbiamo fatto questo Natale per voi. Come vedete io sono vestito in abito natalizio, sono il vostro Sirius, colui che viene dalle stelle e questa sera, oggi pomeriggio anzi, siamo qui davanti a voi per dirvi che questo video di Natale che abbiamo fatto è qualcosa di nuovo, un qualcosa che vuole unire il rap, che è un qualcosa di più moderno, con qualcosa di più classico che è il mio stile, che di solito è qualcosa di più pop, un pop più retro. Ma a questo punto voglio presentare anche il mio collaboratore, un cantante rap, il cantante rap più giovane attualmente che io conosco, è bravissimo, si chiama Kim, questo ragazzo qui che è accanto a me. Salve a tutti, grazie Daniele. Che cosa ci racconti, com'è stata questa esperienza per te? Stupenda, stupenda e soprattutto divertente, molto divertente e non l'avevo mai fatta con un lirico, diciamo. Certamente, mettendoti vicino a me è stato un duetto un po' particolare perché nel momento in cui si unisce il pop con la musica rap diventa un qualcosa di nuovo che c'è ma non viene in questa maniera qua. Quello che chiaramente noi vogliamo dire a tutti voi è che vi auguriamo i nostri migliori auguri di Natale perché il nostro messaggio è quello di dare a tutti voi un qualcosa di sociale, di dire che da qualsiasi parte del mondo tu nasca, da qualsiasi parte del mondo tu sia, in qualsiasi luogo tu ti trovi, il Natale è sempre per tutti Natale. Ognuno lo passa in un modo diverso, ognuno lo passa bene, con regali o non, però il Natale poi alla fine è volersi bene e stare insieme agli amici più cari, alle persone con cui vuoi più condividere questo momento. Tu come passi il tuo Natale? Allora, molto semplice io con i miei amici e anche in famiglia, diciamo, viaggiando, viaggiando, per fortuna mi piace molto viaggiare a me. Come ha detto Daniele, sì, questa canzone ha preso un po' tutti e io sono andato un po' a cercare le persone della mia realtà, quelli che mi sono vicino a me, quindi i miei amici. La fine è quella che conosco. E certamente nella nostra location di Chianciano Terme ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato a collaborare per questa trasmissione, per questo video e siamo andati anche al pattinaggio lì a Chianciano, in Piazza Italia. Ringrazio Giuseppe Binaggia che è stato il nostro collaboratore, Sabrina naturalmente che saluto, Moriano che è stato il nostro grande cameraman che ci ha ripreso durante le riprese, Mari Stella Pieroni il nostro trucco, il nostro equip di montaggio vestiti, ringrazio Gianluca Olivelli che come sempre mi accompagna in tutti i luoghi e in tutti i laghi, ringrazio il mio grande collaboratore, cantante Kim Roggi con la sua splendida presenza oltre che scenica anche un grande artista e vi auguriamo di nuovo Buon Natale, un abbraccio a tutti voi di Teledea. Ciao Daniele, ciao tantissimi auguri di Buon Natale anche a Daniele Rossi, perché ti ha presentato un giovane artista che è qui vicino a noi. Allora, alzati in piedi così ti vediamo tutto il tuo splendore, eccelo qua, sei alto eh, sei alto eh, mi avete contagiato, adesso vi fate parlare in chianino, non voglio dire altro. Contagieto si dice. È contagieto, va bene. Allora, Kim Roggi, dunque sei, hai avuto, io lo chiamo privilegio insomma, di esibirti insieme a Daniele Rossi, che esperienza è stata? Fantastica, è un artista favoloso e secondo me meriterebbe anche gli spalti, esatto esatto, c'è una voce fantastica. Io per fare questo pezzo lo dovevo rifare minimo due o tre volte, lui alla prima tirava fuori una traccia favolosa, anche la sua preparazione col piano, la sua preparazione a mettere, a progettare alla fine tutta la canzone, tutta la sua struttura. È bellissimo. È un grande artista, è un artista a 360 gradi. È bravissimo, lo sottolineo e ho piacere che insomma lo venga condiviso anche da un giovane come te, che magari ecco potrebbe avere insomma così già abbastanza dimestichezza con l'argomento, ma in realtà si sorprende per ogni volta, per la bravura anche proprio di Daniele Rossi. Buon Natale a te che sei dall'altra parte del mondo, Buon Natale a te che vivi la tua vita in un secondo, Buon Natale anche a te che sei disperso e non sai dove andare, Buon Natale a te e a tutti quelli che sapranno amare. Ma chi saprà amare? Avere un Dio personale, grazie ai soldi di tuo padre, avere un Dio che ti rifiuta o nel bene o nel male, Buon Natale a tutti raga che al posto del panettone, avevano un pallone, in bocca un mozzicone. Mi ricordo raga, con le mani in tasse, cappuccio su e filpa di cappa, l'illegal in tasca, l'immorale in testa, fumavamo quanto basta, vendevamo quanto resta. Anche se parlo un'altra lingua, anche se sono diverso da te, anche se credo in un Dio diverso a te che credi che un Dio non c'è, anche se sono un povero uomo che non potrà conoscerti mai, Buon Natale a te, straniero, che un nuovo sole domani vedrai. Buon Natale agli amici, che per sempre mi saranno vicino, Buon Natale amore mio, che sei la stella del mio cammino, Buon Natale, pioggia il vento, Buon Natale quando nevicherà, Buon Natale anche al mare, Buon Natale all'oscurità. Nato con l'oro e dentro, un bene passeggero, cresciuto in un quartiere, il primo luogo vero, ultimo banca scuola, Kim Roggi presente, dimmi cosa hai capito, che il vicino all'erba verde, se è prinsoriso in faccia, ma ha fatto un capriccio, qualcuno ce l'ha fatta, qualcuno è nel precipizio, ma che vi devo dire raga, Buon Natale a tutti, fatti, sobri, belli e brutti. Anche se parlo un'altra lingua, anche se sono diverso da te, anche se credo in un Dio diverso, a te che credi che un Dio non c'è, anche se sono un pover'uomo, che non potrà conoscerti mai, Buon Natale a te straniero, che un uomo sole domani vedrai, anche se parlo un'altra lingua, anche se sono diverso da te, anche se credo in un Dio diverso, a te che credi che un Dio non c'è, anche se sono un pover'uomo, che non potrà conoscerti mai, Buon Natale a te straniero, che un uomo sole domani vedrai. Grazie a tutti! Grazie a tutti!